Nessun topo costruirebbe una trappola per topi, direbbe Einstein, anzi lo disse realmente quando si ritrovò di fronte alla possibilità di collaborare per costruire la bomba atomica, quella che Oppenheimer stava scientificamente e lucidamente progettando. Beh, di macchine di morte in realtà le umanità ne ha viste tante, certe volte gli scienziati non erano consapevoli, anzi gli scopritori non erano consapevoli di quello che andavano creando, delle volte erano invece consapevoli ma non pensavano di creare tutto quell'orrore.